L'albi celeste si imposta ai rigori sulla faccia, riconquistando dopo 36 anni il massimo trofeo del calcio in diretta da Doha, Alessandro Antinelli. Allora Alessandro si festeggia ancora? Si, si festeggia ancora, buongiorno, buongiorno da Doha. Se un amante del calcio avesse immaginato la finale più bella nella storia dei mondiali, forse non sarebbe riuscita ad arrivare così in alto. Una partita che sembra finita per il dominio totale dell'Argentina trascinata da Messi, si riaccende all'improvviso a 10 minuti dal novantesimo, perché tra in scena l'altro un po' di classe. Colpo su colpo, uno chiama e l'altro risponde, lo spettacolo è tutto nella sfida tra i due più forti al mondo. Bappé segna una doppietta e porta la gara ai supplementari, in un'altalena infinita di emozioni, ancora Messi, ma la questione non è chiusa. Perché di là c'è Mbappé che sfrutta il terzo rigore della serata e fa 3-3, se non fosse per Emiliano Martinez, prodigioso su Colomani a un passo dalla fine. E se non fosse per Lautaro, che fallisce di testa pochi istanti dopo il colpo del K.O., la partita non andrebbe oltre. E invece nel thriller dello stadio Lusa-Ile ci sono anche i rigori. La Francia ne sbaglia due con Comane Gioameni, l'Argentina è infallibile e Messi conclude la sua marcia di avvicinamento a Maradona, conquistando il suo primo mondiale, il terzo nella storia della selezione. Messi è votato il miglior calciatore del torneo, il capocannoniere con otto gol a Mbappé, il miglior portiere Emiliano Martinez, il miglior giovane Enzo Fernandes. Non sarà facile rivivere una serata così.